Siamo di nuovo insieme in questo tempo di avvento ormai arrivati alla terza domenica di questo tempo forte come sempre non può mancare la presenza del pastore padre Franco Moscone di nuovo benvenuto Buona domenica, buona terza domenica di avvento, domenica gaudete Ecco, della gioia, anche se io sono vestita tutta scura, tutta di nero però la gioia poi passa attraverso gli occhi, attraverso il cuore Però essendo elegante il nero, l'eleganza è il segno di gioia Sì, è il mio colore preferito Allora, chiudiamo la parentesi dedicata all'abbigliamento e veniamo ad un altro abbigliamento Certo, perché anche di questo si fa nella liturgia del giorno Stiamo parlando di un altro protagonista, l'ultimo dei profeti, Giovanni che segna la svolta epocale attesa dall'umanità Quindi è la domenica dove il protagonista nel Vangelo è il precursore, Giovanni il Battista Però siamo nel ciclo A Quindi siamo nelle letture evangeliche che sono scelte lungo l'anno da Matteo Quindi è il Giovanni Battista come è stato letto dell'Evangelista Matteo Non il più conosciuto è la lettura che fa invece Giovanni, l'Evangelista Giovanni che con ogni probabilità fu discepolo di Giovanni Battista prima di diventare discepolo di Gesù e suo apostolo Quindi ne dà una lettura più ampia, senza dubbio più ampia di quanto non faccia Matteo Però la lettura di Matteo è interessante a mio giudizio perché parte da un ambiente originale parte dalla fine, ossia dalla fine della vita terrena del precursore di Giovanni Battista parte dal momento di disperazione di Giovanni Battista parte dal carcere ossia aveva già terminato tutto il suo percorso profetico ed è un fallito perché è finito in carcere e dal carcere cerca di rileggere la sua vita e pur essendo stato profeta il precursore non la capisce più e allora sente il bisogno di mandare qualche d'uno dei suoi amici, di chi andava a trovarlo in carcere a mandarlo da questo Gesù a dirgli ma dammi la risposta, ma sei proprio tu ci ho visto bene o è tutto un inganno o è veramente disperazione insomma trovo interessante che Matteo ci presenti questa figura enorme come fu Giovanni Battista che conosciamo anche attraverso altri testi letterari non solamente dei Vangeli della letteratura coeva citato in tanti modi ecco questa enorme figura parta dal momento della disperazione del carcere, della sconfitta non della morte ma comunque forse un momento ancora più tragico quando tu stesso giudicando la tua vita non riesci più a capirla e ti sembra di aver sbagliato un po' quello che capita a qualcuno di noi probabilmente quindi Giovanni è scosso e se si fosse sbagliato questo si chiede un po' come capita magari a un prete che a un certo punto si chiede se è davvero quella la strada giusta se ha fatto la scelta giusta se è stata una scelta libera più che altro oppure ad una coppia ad una moglie, ad un marito anche ad un vescovo nel dire sì ha fatto bene ecco un po' questo dubbio è l'esperienza della vita nostra ossia noi non possiamo vivere fuori del dubbio ossia la certezza ce l'avremo dopo ossia nel percorso nel cammino per forza di cosa inciampiamo e abbiamo dei momenti in cui ci sembra ecco che veramente tutto crolli o momenti in cui il buio sembra precedere o essere più forte della luce e questo è importante che sia capitato e capiti anche ai profetti che sia capitato anche all'ultimo e al più grande probabilmente dei profetti a colui che ha indicato il Messia se fosse solo capitato ad Isaia sette, otto secoli prima insomma annunciava delle cose che era chiaro che non avrebbe mai visto ma lui l'ultimo che lo ha visto che lo ha battezzato che ha compiuto il gesto che ha sentito quella voce che veniva dall'alto e poi dice ma è proprio così ossia io lo trovo un profeta veramente umano se un profeta non è umano non è non ci serve non è il mio profeta non è per me non è per l'uomo è un ingannatore è un un guru è un non lo so è uno che ne vuole approfittare e fa della figura del profeta un qualche cosa per sé quando il profeta va in crisi ecco dimostra veramente che qualche cosa lo ha toccato e lo toccava e c'è questa domanda sei tu quello che devi venire o dobbiamo aspettare un altro se ci fosse una domanda una classifica delle domande più impertinenti del Vangelo forse questa meriterebbe un premio questa merita un premio ma c'è una seconda domanda che merita un premio ancora più grande che è la domanda che fa Gesù stesso sulla croce ossia Gesù quando muore in croce fa una domanda è presa da un salmo che però è ancora più pesante e distruttiva di questa perché dice padre mio perché mi hai abbandonato ed è una domanda del figlio seconda persona della Trinità insomma al padre sono le due domande dove dimostrano l'umanità profonda e come Dio se è Dio entra nell'umanità e accoglie dell'umanità tutto compresa la disperazione e il fallimento la non visione compreso l'ateismo perché potrebbero apparire come domande atee e sapere che Gesù muore ateo sulla croce a me piace ossia mi sembra molto molto umano e sia veramente la redenzione completa di tutti è quella domanda che scardina un po' tutto e sulla quale poi puntano molto l'attenzione le critiche anche appunto gli atei o gli agnostici quelli che sono in ricerca è lì che puntano sull'agnosticismo se potrebbe discutere più a lungo ma sull'ateismo che è già una presa che vorrebbe essere una presa di posizione che è una forma di fede senza Dio perché l'ateo e il credente si trovano a dare una risposta a Dio un sì o un no ma è una risposta netta chiara ecco le due risposte però sono pesanti sono pesanti io credo sia ancora più pesante la risposta dell'ateo se è una risposta che ha seguito un percorso oggi una volta l'ateismo era un punto d'arrivo nella nostra società occidentale europea oggi è un punto di partenza per moltissimi soprattutto per i giovani probabilmente perché di Dio non se ne parla o non si sente il bisogno quindi è un punto di partenza non è un ateismo cosciente è un ateismo pratico è un ateismo anche modaiolo sì che può essere anche di comodo può essere anche di comodo quest'altro ateismo invece che che prende tutta la vita in sé e alla fine dice ho fallito o mi sembra un fallimento allora Dio dove sei che era la domanda di fronte ad Auschwitz a queste grandi tragedie dell'umanità o della sofferenza dei bambini insomma per dirne ecco e noi qui abbiamo l'ospedale lo sappiamo bene questo ateismo è una fede ed è una fede assunta assunta da San Giovanni oggi parliamo di San Giovanni Battista ma maggior ragione assunta da Gesù in croce ci vorrebbe quel silenzio di cui parlavamo nelle volte scorse non mutismo anche se insomma ci lasciano queste affermazioni anche senza parole visto che si parla anche del suo abbigliamento dell'abbigliamento di Giovanni Battista può avere la conversione il sapore di miele selvatico e locus questo è il racconto che fa soprattutto San Giovanni il Vangelo il Vangelo di Giovanni che piazza il Battista nel deserto quindi con un abbigliamento del deserto del profeta del deserto è diverso quindi dalla posizione di Matteo che ce lo ha piazzato invece in carcere ora a mio giudizio questo Giovanni piazzato nel deserto è senza dubbio il richiamo all'esodo il popolo ha bisogno sempre di un cammino di un percorso di una prova anche lunga ecco ha bisogno di liberarsi di sentirsi in un percorso di liberazione continua con ogni probabilità come dire Giovanni fa questo percorso da solo va lui nel deserto e poi da lì chiama il popolo al percorso verso la libertà e allora all'inizio insomma il suo messaggio viene ascoltato viene letto e viene seguito ed è il momento del battezzatore ma nel Giovanni di questa domenica io metterei veramente l'accento sul fallimento ma su un fallimento che poi diventa redenzione ed è già la risposta alla domanda che volevo farle come ultima per chiudere questo nostro incontro che conforto può venire dalle sue parole dalle parole di Giovanni in realtà lo sentiamo molto vicino a noi io credo insomma che il conforto sta nel vederlo alla mia altezza alla mia possibilità è uno come me è la mia esperienza anche io mi domando ma Gesù se ci sei batti un colpo insomma Gesù sei proprio tu quello che dà senso alla mia vita ecco fammelo provare o no o non ci sono ancora e quando arrivo lì insomma faccio l'esperienza di Giovanni e quindi mi sento in buona compagnia e quindi insieme a Giovanni che ci e insieme a lui che ci avviamo in questo cammino alla sequela di Gesù e dei suoi discepoli grazie anche per oggi Balefranco grazie e buona terza domenica di avvento ormai il Natale si fa più vicino ecco inizierà domani la novena e quindi perfetto alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti